È entrato in azione mentre la vittima stava scaricando la spesa dall'auto in un attimo e così riuscito a portarle via la borsa. Ma anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, la polizia è riuscita a bloccare il ladro che non aveva interrotto la sua attività illecita nemmeno in piena emergenza coronavirus. In manette è finito un noto pregiudicato aretino di 46 anni che è stato arrestato per il reato di furto. È un successo ieri nel primo pomeriggio ad Arezzo in via Legiotto. La vittima stava infatti scaricando dall'auto la spesa appena fatta ed aveva appoggiato la propria borsetta sul sedile. Il 46enne, approfittando di un attimo di distrazione della signora, ha arraffato la borsa e si è dato alla fuga verso il parco Pertini. Due cittadini presenti sul posto hanno allertato il 113 che è intervenuto immediatamente. Gli agenti sono riusciti così a bloccare il malvivente nei pressi della sua abitazione, recuperata anche l'area furtiva all'interno della borsa. Dal valore di circa 500 euro c'erano documenti cellulari, chiavi ed effetti personali che sono stati così riconsegnati dagli agenti della questura alla donna derubata. L'autore del furto è stato invece tratto in arresto. Adesso è in attesa della fissazione dell'udienza.